Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su IndieGameplay Ita, oggi siamo su Hammerting, un gioco sviluppato dai Warzone Studios e distribuito dai famosissimi Team17. Allora, che dire, sto cambiando un pochino il mio approccio al canale negli ultimi mesi, in quanto mi piace molto di più provocare chi è iscritto, chi si avvicina al canale, proponendogli dei titoli veramente particolari, veramente interessanti. Sto puntando meno all'insegnare a giocare, cosa che non mi riesce benissimo, ma a mettere la pulce nell'orecchio è una delle cose che forse è riuscita meglio a me, nei confronti dei miei amici, e che ho deciso di fare anche con voi. Questo è un gioco che troverete probabilmente il 28 pubblicato sul canale. C'è un embargo che scade forse il 26-27, però ho deciso già adesso, che lo sto registrando a metà ottobre, di portarvelo subito dopo l'uscita. Non so ancora dirvi il prezzo, e stiamo parlando di un gioco che mi ricorda veramente tantissimo giochi come Dungeon Keeper, come Dwarf Fortress, ma soprattutto Oxygen Not Included. Oxygen Not Included me lo fa venire in mente il fatto che il gioco uscirà in accesso anticipato il 27 di ottobre e avrà la dinamica dei fluidi, la vita nelle garotte, l'esplorazione, le guerre, le commercio, tutte cose che verranno aggiunte e hanno già pianificato, che al momento ovviamente non ci sono. Ed è un gioco molto interessante, dove interpreteremo il ruolo di alcuni nani che si, diciamo, approcciano, si insediano nella città, nella montagna. Lo andiamo a vedere subito, lo devole il fatto che sia già nella nostra lingua. Iniziamo la nuova partita, possiamo fare la sfida settimanale, dove possiamo confrontarci con un'altra gente, infatti le condizioni iniziali vengono messe uguali per tutti ogni settimana, oppure la nuova montagna, insomma, la nuova sfida. Da qualche parte, lungo la catena montuosa di Mara, sulla vetta farede minacciosa del monte Karaz-Tarum, una colonia di nani si prepara a stabilirsi in un luogo a lungo abbandonato dalla loro specie. Sostieni la lega di Metis nella grande guerra sulla superficie e svela i misteri di una montagna che cambia a ogni partita. Lo iniziamo. Io, quello che ho già visto, vi dico, ho già visto l'inizio, inizio, 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 mi intrippa già parecchio. Ok, ci viene dato... Il gioco è disponibile in demo, quindi probabilmente alcuni di voi l'avranno già sicuramente visto. Infatti mi fa vedere qua, demo timer, cioè la demo di un'ora. Qua invece, perché è un gioco che comunque ve ne prenderà decine e decine di ore, ecco, nonostante io abbia pubblicato tanti video in cui magari la durata del gioco si attesta tra le 2, le 5, le 10, le 15 ore, questo è un gioco che può portarvi via anche centinaia di ore. Non ce ne sono tanti, però i giochi di questo genere si prestano spesso per avere una longevità molto elevata. Controllare una colonna di nani con l'obiettivo di stabilirti nella montagna e supportare la fazione alleata della grande guerra nella grande guerra che infuria in superficie per aiutarli dovrai scavare, estrarre, costruire e creare. Questo esce una cava ed esplora finché non avrai acquisito sufficiente saggezza della montagna per imparare la metallurgia e costruire una fonderia piccola. Continua a commerciare, esplorare. Ok, qua vediamo i comandi, ci viene dato adesso con il diario, vedete che i nani stanno arrivando, abbiamo dei nomi impronunciabili che a quanto ho visto cambiano ogni partita. Saga Darwin, Gilla Brandwool e Eliv Guldhammer. Sono pronti a trasformare questo buco? Ok, vedete che intanto stanno entrando, i nani adesso arrivano graficamente, ricorda molto anche un altro titolo che non ricordo, sempre con i nani, insomma, tasto spazio e mettiamo in pausa. La cosa interessante è che cliccando sul grande ingresso potete reclutare i nani, come potete vedere che possiamo andare a pagare per reclutare dei nuovi nani con delle determinate caratteristiche, oppure, guardate la cosa che veramente mi fa intrapare, la superficie. Siamo qui e abbiamo il mondo di gioco qui fuori con la grande guerra dove potremo andare magari anche a interagire con altre fazioni, quindi molto molto interessante. Diamo un'occhiata al menu perché appunto voglio farvi intrapare. Nano senza insediamento, hanno bisogno di insediamento, abbiamo delle industrie mancanti, mancano le sequenze industrie agricoltura, scava, fusione, ok, equipaggiamento obsoleto, montano già, equipaggiano già, dell'equipaggiamento vecchio, nani inattivi ovviamente perché abbiamo dei nani che non stanno facendo niente, abbiamo un'enciclopedia che ci spiega tutto, guardate, intrippate, carrelli, ascensori, i binari, insomma, c'è veramente di tutto, il combattimento ovviamente che c'è, immancabile, la creazione, i tipi di nani, gli insediamenti, quindi i vari luoghi, le varie stanze che si possono creare, le proprietà dei materiali, quindi abbiamo proprio, ogni materiale ha delle caratteristiche, la durezza, il peso, insomma, abbiamo l'estrazione che andremo a vedere, il raccoltamento dei nani, gli utensili e l'equipaggiamento, la barra superiore che ci mostra, vedete la barra verde qui, tutte le posizioni in superficie per vincere o perdere la guerra, insomma, vedere le posizioni controllate, quindi in pratica quello che noi facciamo qui, ed è una cosa anche piuttosto originale, diciamo che alimentiamo la guerra scavando una montagna e facendocene una città. Eh, diamo una creata intanto ai nani qua sopra, che cliccandoci sopra andiamo ad aprire le loro barre, c'è praticamente tutto tradotto, allora, l'energia, il morale, l'avidità, eh, descrizione dettagliata, ne è venuto contro, ok, abbiamo il brio, l'apprendimento, la riflessione, la brutalità, l'ardore, e le caratteristiche, quindi che vanno a influenzare queste caratteristiche, le professioni che stanno facendo e il loro relativo livello e le loro statistiche riguardo a campo divisivo, velocità di movimento. Poi, abbiamo visto l'enciclopedia, abbiamo visto in superficie, quindi il classico clic che facciamo lì oppure cliccando qua, abbiamo la saggezza arcana che è molto importante perché ci mostra la ricerca, quindi noi possiamo già andare a cercare qualcosa come la metallurgia, l'agricoltura sotterranea e le relazioni commerciali tra i nani, che a loro volta poi vanno a sbloccare altre cose e calcolate che siamo soltanto all'inizio dello sviluppo, insomma, per quanto riguarda gli early access. Qua va bene, ci sono due tipi di saggezze, quella della montagna e quella commerciale, alcune, soprattutto andando avanti e arrivando qui, alcune già chiedono la saggezza con la strata di mano, insomma, quella commerciale, quindi ci vorrà ancora più tempo per raggiungerla. Intanto togliamo, graficamente è stupendo, dal mio punto di vista, mi sbilancio poche volte così però. Allora, posiziona blocco? No, facciamo estrai, c'è il classico modo di scavare, andiamo a vedere, ovviamente... Non mi scava qui? Ah, era già nel blocco, ok, dello scavo. Non si scava parete. Ok, niente, scaviamo anche qui, in modo che spieniamo un po' tutto. Cliccando col destro mi annulla lo scavo. Sono anche piuttosto veloci, devo dire, perché mi aspettavo qualcosa di un po' più lento. Grande mappa della superficie, il nostro occhio sulle vaste lande nel mondo, giocci sulle nostre gallerie. Possiamo accettare le missioni delle fazioni, infatti stiamo acquisendo anche dei... Vedete qua in alto quello che stiamo facendo, stiamo acquisendo dei punti di ricerca. Cliccando lì bisognerà poi capire esattamente che cosa possiamo fare. Qua vedete che abbiamo delle missioni. Il ponte sul Granfor funge da confine tradizionali tra la Fiera Marunia a sud e la Bella Venda a Nord, fruttificato durante la guerra. Ok, sì, va bene. Vabbè, intanto non mi interessa, voglio fare tutto qua. Abbiamo un cappello sciolto, anelli gialli. Ah, ho appena detto che tutto è tradotto quasi, diciamo. Possiamo interagire con le cose, vediamo. Intanto sono tutti fermi. Ah, al momento non hai visibilità su questa zona. No, qualcuno ci sta andando. Oh, mamma mia. Allora, adesso non finisce qui, perché ovviamente vi ho fatto vedere due menu, ma gli altri sono consultabili. Ovviamente qua vedete la possibilità di posizionare i blocchi. quindi posso andare a magari mettere un disco. No, 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 no. Annulla. Annulla tutto. Annulla. Non vedo niente da trascinare, quindi è un po' scomodo questa cosa. No, voglio piazzare dei blocchi qua. Voglio fare... Ah, devo solo trascinare. È un po' scomodo. Devo usare la C e trascinare così e costruire i blocchi. Magari già una sorta di entrata, di qualcosa. Poi, vi faccio vedere che andiamo avanti le infrastrutture che adesso quando andrò a sbloccare si porta da muro. Possibilità di mettere una porta. Anzi, tra l'altro, la metterei qui così. Abbiamo la scala per impalcatura, abbiamo la lanterna a palo e lo schegno di pietra. un contenitore di stoccaggio nella montagna. Allora, io inizierei poi a fare questa cosa, questa impalcatura. Ah, me la fa fare così. È un po' grossa, però. Vabbè, annulla questa, va. Se riesce, ok. Intanto abbiamo costruito la porta. E qua non riescono a costruire, quindi vabbè. Qua abbiamo le infrastrutture, quindi tutto quello che al momento possiamo fare per, diciamo, tutto quello che è di contorno alla base, perché le parti importanti iniziano adesso. Allora, voglio... Intanto, qua è già costruito, quindi vabbè. Vi faccio vedere le stanze, anche al momento abbiamo la cava piccola, una piccola operazione mineraria per le stazioni di pietra del montagna. È spesso utile progettare le prime strutture. Vediamo un po' come funziona. Ah, molto interessante, perché la possiamo piazzare qui. E andiamo a scavare in dentro. Ok, la mettiamo qui. E così scaviamo questo metallo qua. Perfetto, abbiamo creato una mini miniera. Al momento abbiamo solo questo, però al momento possiamo andare anche a comprare la 7714, 1 e 2. Sblocchiamo la metallurgia. Quindi a questo punto, nelle stanze ci si blocca, sbloccano anche altre due cose. Abbiamo sbloccato la cava. Ah, mamma mia, i blocchi di granito dovevo fare la metallurgia. Vabbè, la facciamo così. Facciamo anche la metallurgia. E poi la grotta vivaio, quindi dove possiamo andare a raccogliere funghi da sottosuolo e la mettiamo da questa parte. No, non me la fa fare. Sì, va un po' perfezionato il fatto che comunque ogni tanto ci annulla le cose e non ci fa capire esattamente cosa è successo. Comunque, sembra molto interessante perché qua stanno creando e spendendo, diciamo, le cose. C'è qualche problemino qua perché qua si potrebbero vedere le missioni ma non funzionano correttamente al momento. vedo che intanto loro sono già saliti di livello quindi possiamo andare a potenziargli il brio. Qua dovrò informarmi bene su cosa funziona ma ovviamente poi per questo gioco preferirò aspettare che il gioco esca in modo che inizino comunque a svilupparlo. Sono già arrivati a livello 3. Sì, stanno costruendo. Manca del granito. Lì adesso non so qua che cacchio stiano facendo perché si sono fermati. Manca del granito. Order missing resource tooltip. No, manca... Oh, ho distrutto tutto. Perché? Crea. Crea. No, non me lo fa fare. No, non non mi è andata a buon fine la cosa. Comunque. Eh, no. Qua abbiamo sempre questa. Qua abbiamo le stanze. Vediamo. Vorrei portare avanti un po' di... Ah, mi mancano. Eh, no, con questi sottotitoli qua apparentemente giocarlo adesso non è il massimo. Eh, allora, 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 vediamo un po'. Facciamo la cava piccola. Eh, vorrei fare la cava piccola. Qua mi ha scavato un po' di roba però vorrei anche capire che dove vedo tutte le risorse che possediamo. Quindi, libro, blocco di... Ah, ok, qua tutto quello che abbiamo. Eh, sì, i blocchi di granito ne abbiamo. Ne abbiamo parecchi. Dovrei fare probabilmente una cassa, una cassa in modo da poter mettere tutta la roba. La mettiamo qua dopo la porta in modo da equipaggiare e mettere dentro tutta la roba. Ok, già costruito? Già fatto? Sì, qui. Buon, intanto qua, uh, hanno aperto la miniera. Ok, adesso è diventato effettivamente un luogo di scavo. Quindi qua diventa... Ah, interessante. Attenzione. Paesaggi di guerra. Sta per scatenarsi una battaglia in una grande guerra e le nostre asce potrebbero cambiare nelle sorti. Ok, intanto vediamo qua. se possono creare dei requisiti e degli oggetti il pezzo di granito posso mettere in crea e crearne dieci in base a... Ah, continua a scavare nella montagna, si tengono impegnati, scavano all'interno della montagna e mi producono blocchi di granito come se non ci fossero domani. Va bene, mi sta bene, però io adesso la cassa qui io vorrei demolirla a questo punto perché mi dovete fare l'edificio di metallurgia. La grotta vivaio non me la finiranno mai perché mi serve anche roba più raffinata, quindi possiamo metterla qui? No. Non lo so, non so, onestamente vorrei piazzarla qui ma non me lo lasciano fare. Ah, ma qua non ha finito, ok, ok, ok. Vediamo se riusciamo a metterla qua stavolta. Sì, forse sì. No? Sì, 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 lo piazza, non possiamo che accelerare il tempo a mettere la velocità massima, dove stanno e smettono a lavorare. Tanto abbiamo già un anno che sta producendo il problema di questi giochi e che sono sempre tutti fermi e non sai mai perché. Demoliscimi anche questa che tanto non le faccio niente. Ok. Mancano blocchi di granito. Tu, di là, continua a produrre blocchi di granito, no? Producine più che puoi che ci servono da questa, no? Intanto continuo a accumulare esperienza. Bene, poi sarebbe da esplorare anche cosa c'è sotto. Sotto qui. Vediamo se possiamo mettere delle infrastrutture e delle impalcature. Ah, ci servono proprio pezzi di granito per farlo. Un po'... Ah, ok. Sì, ma finitemi questo prima, però. Ok. Non sono bellissime da vedere, però, queste cose. Vabbè, ha demolito il blocco di granito. Demolisce anche questo a questo punto, no? Vediamo un po'. Si può anche scavare da questa, quindi magari andiamo giù così. Sì, è brutta cosa questa che continua comunque a demolire, a eliminarmi il comando. Dovrei cliccare, come dice, con il tasto shift premuto in modo da tenerlo attivo. infatti così funziona. Però non è comodissimo al momento. Ok, dai, qua finite. Aggiungete i blocchi di granito che apriamo anche la nostra seconda miniera e iniziamo a vedere. Intanto qua voglio fargli vedere. Ah, guardate un po'. Si sono sbloccate un sacco di cose in più. Ah, c'è anche la salute dell'edificio. Quindi la miniera non durerà per sempre ma cadrà prima o poi. Ah, ok. Cioè, si romperà e non potremo prenderci. Intanto i nani si stanno dando un grande affare scavando qua sotto. Quindi molto bene. Vediamo se da qua poi possiamo andare da questa e poi scendere ancora. Vediamo. Tec, tec, tec. Vabbè, intanto vediamo cosa si è sbloccato. Granito sbriciolato, blocco di granito, pilastro di granito, lastra di granito. Facciamo le lastre. Facciamone un po'. Perché ci servono le lastre per ultimare l'edificio qua per la fame. Voglio vedere anche intanto sopra, in superficie, cosa sta succedendo. Anche se in realtà non ce ne capisco molto. Ah, c'è una missione qua. Il ponte. Risorse necessarie 10 pezzi di granito ci ricompensano con molto cibo. Io l'accetto. è stato a missione in corso. Ok, dobbiamo portargli del granito. Ok. Gli faremo del granito come chiedono. 10 è detto. Vediamo un attimo qualcosa abbiamo. Quei pezzi lì chiedevano. Quindi questi, forse, Pezzo di granito. Quindi, io di pezzi di granito te ne farei una decina. Come mai chiesto. Le lastre di granito se sono già sufficienti le annullo. No, ne servono due ancora. Quindi, ne annullo una. Ok, intanto lo scavo sotto sta andando bene. Stiamo esplorando. Ovviamente, poi, se andate a vedere sulla pagina Steam si vedono delle costruzioni delle città veramente. Guardate, guardate che roba. Si vedono delle costruzioni degli scavi comunque fatti con più criterio di come ho fatto io. Comunque, qua siamo fermi. Non riescono ad arrivare lì. Però, magari, riusciamo a finire qua. Riusciamo a finire, forse. Vediamo, intanto qua sta lavorando in modo molto efficiente. Dovremmo trovare anche quel materiale lì. Infatti, i pezzi di granito ne abbiamo 16. Vediamo se riusciamo a completare la missione senza dover fare qualcosa. Non lo so. Vediamo. Sì, ce l'abbiamo. in corso, in pausa, completa. Spargendo rapidamente. Sì. E dobbiamo andare a portargli il materiale, però, no? Infatti, qua c'è Missing Resource. Ah, bella la cassa e le garze. Abbiamo il cibo. Ah, ok. C'è una cassa qua. Ok. E dovremmo andare a mettere lì. Però ci serve il granito. C'è poco da fare. Vediamo le lastre. Lastra di granito 4. Direi che ce la possiamo fare a finire questa cosa qui. abbiamo tutto quello che serve, quindi, perché non dovremmo finire? Ne mancano due, quindi magari, non so, accelerando un pochino i tempi. Stanno facendo qualcosa i nani adesso. Ah, stanno mandando via il granito. Ok. Vedete che hanno messo tutto il granito che serve, quindi, magari, con la mappa riusciamo a completare la missione. Le risorse necessarie 10 su 10 e la completiamo. Ok. Ok, no, abbiamo completato la missione. Abbiamo messo in comunicazione una zona con un'altra e quindi accediamo. Una sorta di missioni procedendo per la mappa. Qua c'è un'altra missione. Ah, ci chiedono delle lastre. Vabbè, tanto noi ce ne farega niente, siamo sotto la montagna e al momento salve. Mi finite questo lavoro? Grazie. Per favore, per favore. No, però, in effetti, mancano solo quelli, quindi, io gliene metto in produzione altri. No, scusate, chiede quello lì, questo mucchietto qua. Quindi ne faccio due. No, sembra funzionare anche abbastanza bene, perché si stanno imballando ma per cose abbastanza giuste. Infatti, abbastanza. Cose giuste. Cioè, l'ho trovato buono a livello intuitivo perché siamo riusciti a completare quello che serveva subito. Mancano del granito, delle lastre, quindi, dei blocchi di granito. Ne faccio sei, sette. E qua, intanto, abbiamo iniziato anche la progettazione di acqua. Aumento istantaneo morale, 150. Eh, sì. Ma l'acqua da dove la crei? Ah, ok, non ci preoccupiamo da dove, quindi, va bene. Vediamo lo stato della miniera. No, beh, stiamo dando salute edifici, 1800, quindi stiamo andando anche discretamente bene. Vediamo il discorso della ricerca. Dovremmo aver guadagnato anche dei punti commerciali, infatti, possiamo ricercare volendo, volendo, la cucina o la relazione internazionali, la medicina, l'apprendimento formalizzato, di cose che non ce ne sono tantissime a dire la verità qua, ma non vedo l'ora anche delle altre cose che aggiungeranno, la dinamica dei fluidi, insomma, tutto lo resto perché sarà veramente interessante. Uh, bella, questa è la forgia che ci permette di creare il lingotto di rame. Mi domando solo se creando il lingotto di rame andiamo a sbloccare qualcos'altro, qualche altra ricetta magari. Sì, infatti, abbiamo sbloccato la trave. Le travi dobbiamo produrne una decina perché ce ne chiedono dieci di là. e quindi speriamo di avere abbastanza materiale per le travi. Voglio ancora dare un'occhiata qua perché le travi ce ne chiedevano mi pare dieci qui. Due! Due! Accetto la missione. Torno nella big city e produciamo due travi. Travi che mi chiede il lingotto e combustibile che non so se ce l'ho. Però io vorrei creare anche questo. Guarda, glielo metto sopra intuitivo proprio al massimo qua, devo dire. Produco un po' di queste e produco due di queste che mi serviranno. Uh, aspettate un secondo. Crea e inventario. Ah, ok. Minerale di rame e quello che abbiamo all'interno. Mi chiedo solo come faccia a funzionare il combustibile ma perché vedete che quel combustibile scende. non si capisce bene come si faccia a produrre ma direi che sta funzionando. Adesso stiamo producendo le travi una che vanno a depositare qua la dovremmo trovare qui infatti eccola lì che ci viene evidenziata anche come oggetto di missione e dovremmo produrre anche del cibo che ci costa non si è ben capito però facciamo uno e uno e vediamo cosa ci sblocca come ricette della di cucina. vediamo se abbiamo pronto tutto due su due completata perfetto abbiamo completato un'altra missione e qua c'è vediamo un po' cos'è tre lingotti di rame e il faro solitario però qua c'è una battaglia non so che cosa voglia dire perché la missione poi ci porta qua risorse necessarie vediamo un po' non voglio vedere cos'è questo clicco qui i ricognitori risorse necessarie ok cosa ci da scorta esercito e ci da delle cose importanti partecipiamo anche a questa battaglia e diamogli tre lingotti per l'amor di dio tre uno due tre andate producete questa non so dovrebbe essere credo una versione già abbastanza definitiva per il rilascio in early access sicuramente ha bisogno questo gioco di essere reso un pochino più complicato perché mi piacerebbe avere la stessa difficoltà di un oxygen però mica male è intuitivo già come deve essere ok pronti per la consegna e allora i ricognitori riferiscono che in questo luogo sta per scatinarsi una schermaglia della grande guerra e stimano il nostro aiuto a fare pendere l'ago della bilancia in favore della lega di metis dove facciamo parte noi senza di noi la lega non riuscirà a prevalere e cadrà nelle mani dell'orda del terrore ok diciamo che tra le due fazioni non c'è dubbio dove siamo noi e dove vogliamo stare però vabbè a meno che voi non vogliate andare dall'orda del terrore in quel caso non si può giocata a dungeon keeper allora completa vittoria la lega di metis ha ottenuto una glosa vittoria ok no molto semplicistica questa cosa della guerra però ci sono state dovrebbero essere ci state recapitate delle cose molto interessanti nell'inventario della città no mi fate vedere legname vecchia razione dell'esercito no non vedo forniture ma in realtà dovrei cliccare sulle persone e vedere qua gli oggetti che hanno il denaro che trasportano i livelli delle varie professioni come vi ho fatto vedere prima ma l'equipaggiamento qua no però stanno livellando piuttosto rapidamente quindi credo che sia questa al momento ipotizzo penso sia la versione la demo diciamo completamente sbloccata a livello di tempo poi avendo in mano un qualcosa che comunque funziona già così bene nonostante i testi mancanti ma non ci sono proprio i testi non è che non siano stati tradotti perché infatti come vedete qua ci sono righe di cori insomma l'abbreviazione dei programmatori contentini ha già problemi non ne ho trovati più di tanto ci saranno anche appunto i combattimenti come vedete adesso vi posso dire ai nani di andare a combattere se non possono andarlo qua a combattere no però voglio provare come l'ultima cosa voglio mandarli a scavare lì e voglio vedere come combattono vedete che saltano modello un po' l'una però intanto vanno contro gli slime si vabbè diciamo che gli slime non sono un gran problema al momento gli direi anche di scavare qui ok scavare qui voglio vedere cosa c'è alla finestra grotta per quello che voglio mandare di qua ok molto 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 interessante stanno scavando come dei pazzi abbiamo visto praticamente un nulla rispetto al contenuto della mappa allora ragazzi questo era Amarting spero vi sia piaciuto spero abbiate gradito la scoperta se non lo conoscevate fatemi sapere non mancate come al solito qua sotto nei commenti i vostri parieri qua sotto la grotta va avanti ma mistero insomma non so direi ancora il prezzo purtroppo io posso dire che un 14 euro sarebbe un buon prezzo per questo gioco ma mi sembra quasi di svalorizzarlo quindi svalutarlo quindi posso dire che 19 19 se lo sviluppano bene quindi magari se gli si da fiducia dagli 11 ai 15 euro per un early access molto permettente diciamo che possono starci bene 19 solo se siete dei grandi fan non lo so non so ancora il prezzo che esce ovvio che se esce come altri giochi permettentissimi a 7-8 euro insomma però queste sono tutte supposizioni che in video non vi interessano perché quando vedete il video sarete già accorsi su Steam e su Steam avete già visto sicuramente il prezzo magari poi commenterò anche io qua sotto ragazzi alla prossima e ciao 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 ciao